Sì, è andata bene, ci siamo preparati bene per questa gara, per fortuna è andato come dove andare, abbiamo avuto tutte le compagnie di squadra un buon minutaggio e speriamo che domani vada bene. Allora, un risultato che sicuramente non ci aspettavamo perché i primi 20 minuti abbiamo giocato anche abbastanza bene, solo che si vede che certi infortuni hanno influito molto sulla partita e non si sa, ci aspetta sempre meglio da qualsiasi gara.